Freddy Krueger, una creatura mostruosa, si appresta a compiere atti terribili mediante il bambino in grembo alla giovane Alice. Intanto, ammazza tutti i suoi amici. Alice e Yvonne, una sua amica, decidono di sopprimere Krueger con l'aiuto della madre di lui, uno spirito senza pace che ha vissuto un'esistenza tormentosa. Il mostro sarà sconfitto in una notte tragica mentre, su una torre, lo spirito della madre parlerà alla sua mente sconvolta. Alice darà alla luce il bambino sotto gli occhi del papà e dell'amica Yvonne.